Salvatore Cagliazzo, Presidente della Terza Commissione Cultura del Comune di Pozzuoli. Presidente, luci, suoni e solidarietà, organizzata da questa amministrazione per il quarto anno consecutivo. Sulla base delle esperienze passate, quali sono le novità di questa edizione? Buongiorno innanzitutto a tutti, le novità sono tante. Abbiamo messo in moto un programma di qualità, ritengo, perché ci siamo confrontati anche con esperienze di altri comuni. Abbiamo visto il programma di altri comuni, il nostro non è da meno, anzi voglio dire rispetto ad altri, specialmente nella zona costiera dove il turismo è in primo piano, il programma è molto limitato rispetto al nostro. Quindi noi abbiamo messo in azione delle grosse potenzialità dovute alle associazioni, liberi comitati che ci supportano in questo lavoro. Quante sono le associazioni che sono state coinvolte e gli eventi in calendario? Le associazioni sono circa una ventina e abbiamo fatto una manifestazione di interesse dove ci sono state tante proposte, tanti progetti, tante richieste. Abbiamo fatto un lavoro di selezione, fra virgolette, perché abbiamo cercato di accontentare un poco tutti e le iniziative che sono state messe in campo sono di livello veramente eccezionale, perché con pochi fondi messi a disposizione, anche perché non avevamo molto in bilancio, però siamo riusciti a dare alla città un Natale, ci auguriamo molto molto accogliente. A quanto montano i fondi messi? I fondi sono 48 mila euro lordi, tenendo conto che ci sono tante spese intorno a un evento. Noi al di là del concerto di Enzo Avitabile, che avremo il 27 nella chiesa d'Antartima a Monte Ruscelle, e ditelo voi, non abbiamo dato contributi per prestazioni artistiche, abbiamo soltanto dato dei fondi per sostenere un progetto. Quindi un contributo per sostenere solo il progetto, senza prestazione artistica. Quali sono le principali iniziative, appunto dalle periferie al centro storico? Le principali iniziative, quest'anno un target sulle periferie è stato veramente grosso. Abbiamo dirottato sulle periferie la maggior parte degli eventi, questo lo dobbiamo dire. Questo per una questione proprio di dignità delle periferie, che ne stanno a buon cuore di tutta l'amministrazione. E diciamo che le iniziative riguardano concerti, concerti gospel nelle chiese, abbiamo impegnato sette chiese. Ci sono sei concerti musicali, quindici eventi di animazione, tre spettacoli di danza, 18 mostre senza vendita, sei concerti gospel, sette convegni letterali, ci sono le scuole e anche le chiese. Quindi quest'anno abbiamo coinvolto un po' con tutti. Quindi dal centro storico alle periferie è viceversa, ma non che siano stati da meno i capodanno degli anni passati, ma quest'anno un capodanno un po' più importante. Quest'anno è un capodanno schioppettante. Abbiamo lanciato questa scommessa con il capodanno a Pozzuoli, è andata bene negli anni passati. Quest'anno con Salda Vinci inaugureremo l'anno nuovo e anche altre attrazioni artistiche che allieteranno la piazza del centro storico. Negli anni passati una Pozzuoli un po' in tono minore, delle festività in tono minore. Quest'anno invece possiamo parlare di una Pozzuoli in festa lasciandoci alle spalle un po' i sacrifici e i dolori del passato. E quindi non dimentichiamo però anche quest'anno la solidarietà. Innanzitutto la solidarietà. Il tema che noi abbiamo trattato già dal primo anno di questa edizione è la solidarietà. Tant'è che abbiamo messo a disposizione dei fondi per incoraggiare la sensibilizzazione e la ricerca sulle leucemie infantili, valendoci della collaborazione di queste associazioni on-lus che sono presenti sul territorio. Lo stesso sarà fatto in una grande manifestazione all'Accademia Reunatica per sostenere gli ospedali pediatrici per i malati terminali, i bambini che purtroppo soffrono. E siamo molto vicini alla solidarietà umana, però siamo anche molto vicini a quelli che sono i momenti di svago della città. Cioè far scendere le famiglie in strada, aiutare anche il commercio che è fondamentale, aiutare l'economia della città. E in un clima così particolare come stiamo vivendo adesso in tutta Europa, voglio dire, noi vogliamo dare un senso di serenità e di pace che tanto ci serve. Quindi Natale 2015, una Pozzuoli in festa. Grazie a Salvatore Caiazzo, presidente della terza commissione cultura del comune di Pozzuoli. Grazie a voi.